Sono Matteo Mugelli, conduco insieme a miei quadri l'azienda di famiglia, denominata Agraria Torrebianca. Noi produciamo olio extravergine d'oliva, vino rosso e bianco. Sono qui oggi per presentarvi il nostro piante classico, Annata 2005. Vino rosso prodotto in regime biologico certificato, composto da sole uve sangiovese, con circa il 4% di colorino in rifermentazione. La vinificazione viene eseguita sotto lieve sovrappressione naturale e abbiamo volutamente eliminato tutti i passaggi in legno al fine di mantenere le naturali dotei organoletti. Risulta un prodotto molto equilibrato, di buona struttura, colore rosso rubino tendente al granato nell'invecchiamento. Aromi pronunciati di uva e frutta matura, di sapore pieno, leggermente tanni. Nel salutarvi vi vorrei ricordare che la nostra azienda si trova nei pressi di San Casciano Valdiposa. Vi aspettiamo la nostra cantina. Arrivederci e a presto. Promosso dalla Camera di Commercio di Firenze.